Permettetemi proprio velocemente, visto che è l'ultima seduta che facciamo tutti insieme in questa Assemblea, di ringraziare tutti voi per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, anche in momenti difficili, e tutti i presidenti dei gruppi parlamentari. Volevo ringraziare gli uffici che hanno lavorato in questi anni incessantemente, stanno vicino alla Presidenza e a tutti voi. E il terzo ringraziamento va a tutti gli italiani e a tutte le italiane che in questi anni difficili sono sempre stati vicini alle istituzioni e spero noi a loro nel modo degno e per me, volevo dirvi, è stato un onore assoluto presiedere l'Assemblea di Montecitorio. Grazie a tutti.